Questi alberi davanti all'ingresso di Villa de Capua, che segnavano il confine con la vecchia struttura ospedaliera di via Ugo Petrella a Campobasso, rischiavano di crollare sotto l'eventuale peso di una nevicata. Un rischio che era già stato certificato dai Vigili del Fuoco l'anno scorso e per il quale in questi giorni il Comune è ricorso ai ripari, procedendo al taglio delle vecchie piante. Taglio che sarà ovviamente sostituito con l'inserimento di nuove alberature, ha spiegato l'assessore al ramo Stefano Ramundo, ma da ispezioni seguite quelle piante erano ormai deteriorate e potevano rappresentare un pericolo concreto e molto serio per pedoni e automobilisti. Era dunque urgente intervenire. Tanti i curiosi che hanno assistito ai lavori, qualcuno contrario, altri favorevoli perché sì, dice un cittadino per esempio, guardando il tronco tagliato, vede come era all'interno, completamente marcio. Sta di fatto che presto arriveranno albire nuovi e forti ad abbellire la strada. Il prossimo step per il taglio delle piante potenzialmente pericolose perché a rischio cedimento riguarderà anche i pini che costeggiano via Medea o Trevisonno e anche in quel caso dopo la rimozione degli alberi che secondo le perizie disposte dal Comune sono ormai invecchiati e decadenti, si procederà con il reimpianto di nuove piante.